Dalla partita è chiaro che la situazione tra il calendario internazionale e la Serie B è una situazione bassanata perché dopo tutti gli episodi dell'anno scorso non si può in una settimana di date internazionali faggiare un anticipo della Serie B, quindi mi sembra che questo sia un'umiliazione per gli sforzi economici di una società e un'umiliazione per il lavoro di 30 persone. Credo che sia normale e palese che sia una partita da giocare magari di sabato o addirittura di domenica proprio perché il Palermo che ha la squadra dove ha maggior numero di nazionali è stata posticipata lunedì quindi credo che per par condicio anche le altre che magari in organico hanno tanti nazionali avrebbero potuto soffrire di qualche giorno in più di riposo. Hanno deciso così, noi non possiamo fare altro che prenderne atto, però sono d'accordo con Sarri era una partita da non giocare di venerdì.